hanno preso a calce e pugni un 32enne sul sagrato della chiesa di san michele un'aggressione shock ripresa anche da alcuni passanti che si aggiunge ad una serie di episodi di violenza e molestie che hanno avuto luogo proprio nella piazza immersa nel cuore del centro storico sul posto attorno alle 23 di ieri sera intervenuta la polizia che ha fermato la violenza due giovanissimi un minorenne e un 22enne sono stati denunciati per l'aggressione al 32enne che ha riportato 15 giorni di prognosi anche per lui è scattata una denuncia per esistenza pubblico ufficiale tutti e tre sono stati infine colpiti dal dacur che vieta loro di avvicinarsi a piazza san michele alle vie limitrofe grazie